di un'ottima domina di solida alla quattro due aragosti, trini Silvia e Casarini a Riana alla quattro tre a un'ottima gelovete, curando Francesca, Zamponi e Calontino alla quattro e insieme a ora Sant'Amini e Maria, il palpone sarà alla quattro cinque Sant'Ameresi C'è Pierica, viaggia a Giorgia. Sono dietro adesso. Sono davanti due. No, sono dietro. Non sono dietro? Sì, sì, sono dietro, la vedo io. Non sono dietro che siamo noi. Noi siamo le terze. Siamo noi? No. No? No, no, siamo noi, siamo noi, scusa. Sì? Sì, sì. Sì, sì, siamo noi. No, noi siamo i primi e i quarti. Sì, sono noi. O quinti. Sì, sì, ora li vedo bene. Sì, sì, sono noi. Ok. Sono contenta, almeno anche la Lugio ha vinto un titolo. No. Oля no. Inizia. No. No. No! No. No. Sì, c'è la presa. ce la fanno dai ragazze bravo bravo e pescima i pesi di quello che ci hanno dato l'ultima questa